Ma no, sapete cosa mi ha fatto venire in mente sta pietra che mi è tascata giusto giusto sulla capezzas? La pubblicità? Mamma mia! Vorrei una colazione leggera ma decisamente invitante che posso coniugare la mia voglia di leggerezza e golosità! Non esiste una colazione così, cara! Posso un asteroide colpirmi se esiste? Posso un asteroide colpirmi se esiste? No, 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 no!